Si è parlato anche del mancato riconoscimento di idea di secondo livello dell'Umberto I, l'ospedale di Nocera, all'incontro del governatore Vincenzo De Luca che si è tenuto questa mattina nell'aula consigliare di Nocera Superiore. Ed è stato lo stesso De Luca a parlarne quando tra il pubblico ha visto il sindaco Maglio Torquato. Vedo Maglio Torquato, voglio chiarire questa cosa, vediamo poiché inutile idea di secondo livello. E poi è una palla, ogni tanto che ci vendiamo una palla, noi abbiamo ereditato una situazione per la quale nell'aula sarebbe stato il disastro totale, avevamo programmato la giusura di scappare, di armi, di pagare, noi approviamo un piano ospedalino, recuperiamo tutto, di maniera ragionevole, non della logica, non sono più tempi della logica, anche perché poi andiamo a Roma, ma siamo ancora commissariati, il ministero dell'economia prende e cancella. Abbiamo deciso e lo faremo un investimento imponente, i 25 milioni di euro per il tollo che oggi vuoi pagare. Uno degli assilli quotidiani per me è chiamare gli evolini per dire quando diavolo mi dà il loro programma per pagare. Nocella Inferiore è uno degli ospedali più efficienti della regione, con reparti di assurda eccellenza, a cominciare da una tradizione di neurochirurgia davvero straordinaria che dobbiamo valorizzare, ma in generale è un ospedale difeso. Dovete sapere ovviamente che per l'Italia è il secondo livello, con 9700 mila abitanti e già non ci trasciniamo la nero ma che abbiamo avuto per mirare, perché avremmo dovuto chiudere due idee al secondo livello, Arellino e Benevento, Sbaglio e Provincio. Torquato non ha voluto replicare volutamente, ha detto il sindaco, mi sottraggo nel replicare con una battuta alla De Luca, perché quello dell'ospedale è una questione troppo seria che non va liquidata così, atteso che lo stesso presidente ha assunto un impegno pubblico nel settembre scorso durante un'assemblea pubblica proprio in ospedale. Il 9 gennaio, nell'assemblea organizzata dai sindacati, avremo modo di ribadire le nostre ragioni, fermo restando che abbiamo ottenuto un incontro con De Luca tra domani e dopodomani.